Sindrome orofaccio digitale 3 o sindrome di Sygarman Anomalie del cavo orale, lingua lobulata e amartomatosa, denti accessori e dalla regione oculare, mioclonie palpebrali, battito incessante delle palpebre associate ad anomalie delle estremità, esodatteria post-arsiale delle mani e dei piedi Statura normale, ritardo mentale grave, eredità autosomico recessiva Sindrome orofaccio digitale 3 Bambino di 3 anni, una sorella affetta dalla stessa malattia peso, chilogrammi 12, statura, centimetri 87 Ritardo mentale grave, occhi mungolici, con scosse miocloniche continue e battito altanelante lingua lobulata amartomatosa, con ugola bifida, malocclusione dentaria teletelia, cifosi, esodatteria post-arsiale delle mani e dei piedi con dita corte e larghe Grazie